benvenuti per una nuova puntata della rubrica tu per tu con il volontariato da un'idea di csv padova rovigo in collaborazione con rovigo oggi punto it continuiamo il nostro viaggio nelle associazioni di volontariato e oggi siamo in compagnia di paolo antonini buongiorno paolo buongiorno a tutti paolo è presidente dell'associazione volontari di protezione civile alto polesine quindi è chiaro insomma che parleremo di protezione civile appunto la sua associazione inserita all'interno di quelli che in protezione civile vengono chiamati distretti difatti paolo oltre a essere presidente della della propria associazione è anche coordinatore del distretto rovigo 6 confermo questo tipo di organizzazione consente ai volontari di protezione civile di gestire tutta una serie di emergenze in maniera abbastanza efficace o comunque con un'organizzazione quasi militare per intenderci un'organizzazione piramidale che si può diciamo affiancare a quella militare però con altri tipi di gestione praticamente beh chiaro abbiamo a che fare con volontari però la responsabilità di essere coordinatore di una ro 6 per esempio del vostro distretto ro 6 vi porta ad operare su diversi comuni diversi comuni con un territorio ben delimitato per esempio rovigo 6 ha 16 comuni che lo compongono ha un suo regolamento e un suo statuto invece per quanto riguarda l'associazione volontari protezione civile dell'alto polesine operate su una competenza diciamo territoriale un po più piccola un po più piccola sì praticamente come associazione noi non essendo un gruppo comunale ma un'associazione noi ci convenzioniamo con dei paesi che vogliono avvalersi diciamo nello strumento protezione civile professionale che noi riusciamo a dare in particolare noi siamo convenzionati con salara calto ceneselli castelmassa castelnuo bariano vergantino e melara sono 7 paesi per un territorio di circa 140 chilometri quadrati e 16 mila abitanti beh è sicuramente un territorio ampio da monitorare e su cui intervenire in caso di emergenza anche perché le attività che voi svolgete su questi comuni sono di ausilio alla popolazione sicuramente però anche materialmente risolvete dei problemi che tipo di attività fate per esempio diciamo che noi la principale che facciamo tutto il polesine praticamente è quello dell'emergenza idraulica l'emergenza idraulica si configura nel momento in cui abbiamo il po che si ingrossa o anche diciamo la bonifica tutti quanti i canali che abbiamo chiaramente molto più sentita nel basso polesine dove si abbassa il livello del mare che ci allarga da noi diciamo che viene seduto sotto controllo il po e tutta la parte idraulica per quanto riguarda fontanazze e infiltrazioni che sono il pericolo maggiore per gli argini che sono stati costruiti si configura anche ultimamente molto spesso nell'emergenza diciamo atmosferica che il maltempo diciamo i danni da maltempo da mandinata gli alberi l'allagamento della strada l'allagamento di un degli scantinati delle stalle che ci sono nel nostro territorio noi sappiamo un territorio normale che diciamo che l'emergenza atmosferica è quella che ci sta più impegnando anche il taglio degli alberi di quegli alberi che cadono costruiscono le strade oppure i passaggi dentro le case i giardini quindi voi siete attrezzati con i mezzi che sono quelli che si vedono i fuoristrada i veicoli per arrivare sul posto e poi tutta una serie di dotazioni che vanno dalle motoseghe le pompe avrete immagino scale torce abbiamo le torri faro abbiamo gruppi elettrogeni con torri faro che danno l'illuminazione che serve per sopportare anche lì quando c'è di notte insomma l'emergenza e tu sei presidente della tua associazione abbastanza da recente io sono stato eletto l'8 dicembre del 2019 però ci dicevi prima che sei iscritto a come volontario della protezione civile da qualche anno precedente dal 2014 per esattezza e che cosa è scattato in te visto che chiaramente sei di origine se vuoi se sei romano insomma si sente un po dal modo di parlare che cosa è scattato dal 2000 quando sei arrivato in polesine fino al 2014 quando è deciso di iscriverti e poi nel 19 quando ti sei candidato come presidente della tua associazione qual è la molla che fa diventare fa aumentare diciamo l'impegno da volontario ti fa crescere la molla è sempre la stessa rendersi utile alle necessità del proprio territorio io poi professionalmente faccio un lavoro che mi porta molto vicino come competenza della protezione civile quando ho avuto meno diciamo pressione del mio lavoro ho deciso di iscrivermi a questa associazione mi sono interessato col vecchio presidente che adesso vicepresidente che riccardo montomani che ringrazio per la sua collaborazione la sua spinta e navigavano in un territorio e nella nostra zona abbiamo i vigili a fuoco a castelmassa che sono due squadre quando succede qualcosa una macroemergenza un evento atmosferico forte si allaga a casa mia certo quanto devo aspettare io perché qualcuno intervenga e mi dia una mano o la vecchietta la nostra vecchietta nostra mamma sensi la strazia che cosa e quanto deve aspettare per uscire di casa e poter essere sicura perché magari c'è un albero che gli è caduto sulla recinzione perché i vigili del fuoco hanno delle priorità vanno dove l'emergenza è più pressante la protezione civile con la formazione fatta e con diciamo l'addestramento che noi facciamo ci permette professionalmente di avvicinarsi a questi uomini che vanno nell'emergenza vera i vigili del fuoco quando sanno che noi siamo presenti ci lasciano ci dicono andate voi lì che avete le motopompe andate voi lì che avete le motoseghe per loro è un supporto fondamentale ma non solo nella provincia di rovigo in tutta italia è questo che serve per sicilia sono quei padri di famiglia che nel loro territorio possono essere utili a loro stessi e al territorio stesso ecco questa è fondamentalmente la mia motivazione e questo è questa scintilla diciamo di passione impegno sacrificio perché sicuramente c'è anche da far fatica quanti soci volontari coinvolge nella tua associazione allora nella mia associazione adesso contiamo 40 volontari abbiamo tre auto mezzi quindi possiamo andare fuori tre squadre abbiamo la sede a castelmassa che è molto centrale come territorio nel nostro territorio e abbiamo dei volontari molto giovani addirittura c'è uno minorenne che si sta formando anzi è formato deve soltanto avere il diploma abbiamo l'associazione fondamentalmente nasce nel 2009 quando c'è stato il terremoto dell'aquila moto proprio di queste nove dieci persone io li chiamo soci fondatori che vogliono darsi da fare e hanno cominciato hanno fatto hanno fatto un pc altopolesine e dopo due anni sono diventati operativi e adesso altopolesine conta sette paesi e 40 iscritti come proselitismo parlavi prima di un'attività importante di divulgazione anche attenzione verso le scuole noi tramite la provincia di rovigo che è un bel programma per quanto riguarda andare nelle scuole andiamo nelle scuole elementari nello specifico nelle seconde nelle quarti elementari forse sono piccolini loro per associarsi però per associarsi sì però cominciamo già da quel momento a fargli capire cos'è la protezione civile quali sono i pericoli i pericoli a cui possono andare incontro in casa ma anche fuori casa cosa debbono fare se succede qualcosa non l'uvione un terremoto e poi andiamo nelle seconde medie e nelle quarte superiori quando abbiamo la possibilità purtroppo con la pandemia abbiamo dovuto smettere questo tipo di attività che per noi è molto coinvolgente è molto appagante per il volontario trasmettere a questi ragazzi diciamo i valori della protezione civile facciamo anche dei campi con la nostra associazione noi aderiamo in quanto associazione anche un'associazione nazionale che si chiama pro cip italia pro cip italia organizza dei campi nello specifico a fiasso imbertiano e a bagnolo di poca o castelguglielmo dove ci sono questi ragazzi che fanno una settimana di campo con noi e noi li formiamo gli facciamo vedere cosa fa la protezione civile e gli facciamo dormire in una tenda li facciamo immagino che si divertiranno tantissimo tantissimo e ci divertiamo anche noi volontari a formarli a divertirci quindi il futuro dell'associazione probabilmente guarda i giovani sempre la protezione ciò che deve guardare i giovani salutiamo carlotta giorno 19 anni si studentessa in procinto di fare l'esame di maturità di fatto giovanissima però iscritta all'associazione di volontari della protezione civile alto polesine già dal 2019 esattamente dal 2019 avevo minorenne avevo 17 anni e come mai ti sei iscritta a questa associazione i motivi sono tanti però a me piace rendermi utile e essere diciamo a contatto con le persone a me piace molto stare a contatto con le persone e aiutare e questa associazione mi ha dato modo anche quando da bambina le elementari mi facevano vedere come funzionava di capire che la protezione civile non è solo un diciamo un lavoro fisico come la motopompa la motosega ma anche un contatto con le persone e questo l'ho verificato soprattutto con la pandemia quando magari a fare diciamo servizio per esempio con i tamponi alle scuole elementari c'erano i bambini che ti chiedevano qualche informazione o le mamme e quindi io ho imparato anche a stare molto contatto con i servizi a supporto della popolazione che ha visto la protezione civile impegnata fin dal primo momento dalla distribuzione delle mascherine e l'organizzazione del mi viene in mente per esempio quando ci sono state le riaperture dei mercati se vi ho visto in giro per tutto il territorio si è vero con qualsiasi in tutti i mercati diversi lavori a supporto della popolazione non ultimo quelli per l'organizzazione dei vaccini sì esatto carlotta quindi benché tu sia giovanissima di età secondo il tuo coordinatore sei un volontario esperto eh sì abbastanza di pandemia me ne intendo anche tanto a quanto fare e l'inizio di questa tua attività io ho in una operativa io ho iniziato proprio da operativa operativa all'otto di aprile dopo aver compiuto 18 anni però quando diciamo dal 13 marzo è scoppiata la pandemia dopo le lezioni pomeridiane la mattina il pomeriggio andavo in sede e mi occupavo principalmente di sala radio e sala operativa proprio perché minorenne e appena diciamo formata avevo conclusi i corsi da poco non potevo fare servizio per diciamo motivi di responsabilità anche quindi rimane passato un mese esatto passato un mese all'interno della pandemia e benché giovanissima quindi sei di fatto un'esperta che forma anche i nuovi volontari sì come competenze che cosa hai allora io diciamo come competenza solitamente mi occupo della sala radio spiego moltissimo la sala radio anche la sala operativa e riesco a operare anche con i coq perché mi hanno insegnato anche operare con i coq e diciamo tutta la parte del sociale sostanzialmente aiuto all'organizzazione dei tamponi nelle scuole elementari do informazioni anche alle persone se richiedono quindi si diciamo che questa è un po la mia competenza e se carlotta volesse invitare qualche amico un ragazzo o una ragazza ad iscriversi all'associazione quali sono le leve da usare con i ragazzi giovani le leve da usare principalmente sono il fatto che non si devono preoccupare di non so fare non sono capace ma tutti quando entriamo diciamo impariamo cose nuove sia un servizio tutto tondo e si fa anche famiglia perché la protezione civile al topo lesine per me è famiglia è proprio una famiglia grande e alla fine diciamo di ogni servizio ci si diverte e si riesce anche a superare i momenti di difficoltà perché è proprio una famiglia che c'è sempre quindi io userei proprio la leva della famiglia e di non preoccuparsi se a livello fisico non si riesce a far tutto ognuno di noi trova un posto un po alla volta e un po alla volta si impara certo quindi grazie a carlotta l'entusiasmo grazie a voi dopo aver sentito l'esperienza di carlotta della giovane volontaria che però è esperta come abbiamo scoperto ti chiedo paolo i contatti come fare per associarsi o per mettersi in contatto con voi per mettersi in contatto con noi è molto semplice noi abbiamo una pagina facebook e un canale telegram nonché instagram dove ci sono tutti i contatti del presidente di tutto il direttivo quindi dobbiamo cercare volontari protezione civile al topo lesi proprio il nome dell'associazione si si c'è il numero del presidente di gli altri contatti basta chiamare si viene da noi si guarda ci si guarda intorno si fa un piccolo colloquio se la cosa può piacere noi si accogliamo tutti quanti e come diceva carlotta ci si può iscrivere in nella fase di formazione anche da minorenni se si dai 16 anni in poi col consenso dei genitori ci sono proprio delle motivistiche apposite che vengono rilasciate per avere si segue tutta la formazione poi da maggiorenni si può diventare operativi se il coordinatore ritiene che sia arrivato il momento certo nel momento in cui uno è formato anche da minorenne non può chiaramente scendere in campo però per quanto riguarda la sala operativa la sala radio in sede come osservatore può venire può già operare e formarsi nello specifico di queste due branche da protezione civile perché protezione civile c'è posto per tutti per quello che sa fare una cosa e quello che ne sa fare un'altra qui sono rappresentante di protezione civile perché la mia vocazione però il volontariato ha molte facce e ci si può iscrivere in tante associazioni e la mia frase io dico sempre ai giovani quando vado nelle scuole questa qui non è quello che gli altri possono fare per noi ma è quello che noi possiamo fare per gli altri che ci deve rendere felici questo è molto importante quindi con paolo antonini presidente dell'associazione volontari di protezione civile alto polesine e coordinatore del distretto rovigo 6 fino al 31 dicembre fino al 31 dicembre di quest'anno ci salutiamo ringraziamo paolo e carlotta per il loro tempo la loro testimonianza ea tutti i nostri ascoltatori diamo appuntamento per la prossima puntata di a tu per tu con il volontariato la rubrica di csv padova rovigo in collaborazione con rovigo oggi punto it grazie e buona giornata